Ciao amica o amico, lo sono Miss Famiglia a te, grazie di essere qui se vuoi essere aggiornato sulle notizie di Bossip, News, Anticipazioni, iscriviti e attiva la campanella per visionare altri video. È arrivata la vostra passerina dal web e ha cinquettato che il terribile virus non da tregua in Lippone sono settimane che si combatte contro il Covid e un settimo concorrente ha fatto il tampone e risultato positivo. Dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie, Attilio, Romita e Viva, poi anche Alberto Del Pisis è rimasto contagiato dal virus. Tutti i giorni i Vip vengono tamponati e rinconnati dall'equipe di sanitarie e tutti i locali vengono sanificati. Ci sarà una fine ai contagi? Boh! Amica o amico sono soltanto voci, rispughi, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. E tu cosa ne pensi? A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, non dimenticare di mettere un like. Un saluto da famiglia a te! Ciao ciao! Ciao amica o amico! Non dimenticare di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un like e commentare. Cercaci anche degli altri social chiacchiere in più. Per noi è importante e ci ripara per il lavoro sotto. Buon cammino nella vita! Grazie a tutti!